benvenuti in un nuovo video e ovviamente benvenuti con l'appuntamento mensile degustabox stavolta siamo state le ultime sono state quasi le ultime ci ha fatto aspettare come sempre questa è quella di maggio sapete che io non ci collaboro oggi nell'infobox vi lascio un link qualsiasi cliccate potete ricevere la vostra prima box invece di pagare la 16 euro la pagherete solo 9,99 compreso di spese di spedizione nel momento in cui voi acquistate io ricevo 50 punti ma dal momento che anche voi acquisterete degustabox vi rilascerà un link da dare ad amici e parenti e così via loro risparmio ne abbia accumulati punti ok apriamo ci siamo spoilerati qualcosina dalla stessa persona nel lettore oh io la vedo piena guarda qua è fino sopra infatti era pesante cioè non è che era pesante allora aspetta voglio togliere questo le brochure fai così wow ho pescato quello che mi sono scorerata nelle storie bello ma c'è qualcosa vicino sì sicuramente che poi troveremo che bello no vabbè ma è bellissima questa qualcuno l'ha abbussata singolarmente perché questa è la bustina di per gli alimenti per gli alimenti no vabbè che bello è un'altra la potevano mettere però infatti bocconcini allora il marchio è Matilde Vincenzi è cartone? no mmm insomma c'è madò come crepuzza ma l'adoro però è bellissima no guardate qua i colori che piacciono a te questa è una sì questa è una fascia che si leva no comunque è bellissima che bella questa fuori dal balcone metti ammiriamo il mare il mare no comunque è ma non riesco a capire questa fuori 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 comunque è bellissima ok ok vai pesca ok già per questo già possiamo concludere il video devo fare attenzione a non abbassare il riscardo ok questo è pesante wow sentate proprio oh pezzo pesante infatti oddio è pesantissimo allora polenta parsugane wow adoro ti dici pure come fare questa è quella già pronta bisogna solo tagliarla secondo me ah ok perché guarda c'è scritto ma se non ci sanno mica ci sanno due confezioni no sì secondo me sì tagliare la polenta a fette ok ci sono anche le ricette perché c'è un QR code da scansitare vedi le ricette stiamo andando proprio forte stai andando forte ok ma che hanno combinato ma questo è il maggio big Sapporo premium beer imported ragazze import ma guarda proprio un trofeo com'è bello vero è alcolica sì vabbè sicuramente wow comunque adoro beh mi piace molto è molto big ma io lo vedo molto cioè è abbastanza piena che cos'è? pronti e sani Armando gravi ceci cotti al vapore con olio extravergine di oliva un piatto subito pronto uno o due porzioni ok vabbè già riusciamo a fare una 24 ore comunque carina ma quanti prodotti perfetto perfetto come zuppa o insalata perfetto wow wow buon essere sette cereali semi con semi di girasole chia e lino croissant con crema al cacao e nocciola io ho provato nocciola ed era buonissimo pure vuoto no? non ricordo eccola qua bauli novità ogni tanto il bauli se ne esce queste novità cornetose che cos'è? ramen io già avessi dati kramen ramen wow ma le bacchette cotto in quattro minuti il mio primo piatto tipico miso wakame coreano ramen ramen vabbè vabbè poi ti dice come come farla pronto in quattro minuti allora che carino made in corea save e il brand sì pan di grano pan di grano con il lievito madre multigrain con dei cereali con dei cereali dai uuuu mamma marita gomme dei gum protex bocconcini snack di sfoglia ripiena con crema al latte 100% italiano e cioccolato pieno io ho dei ricordi legati a questo marchio di quando andavamo a fare quando dormivamo dalla nonna e la mattina facevamo colazione e c'erano quei cosi ti ricordi? si adoro bello guarda questi mi ispirano eh questi no ok vai con l'ultimo prodotto te lo do io tanto è l'ultimo oh e adoro questa bocca sei proprio forte spero speriamo bene ma molti l'hanno presa è completa perché comunque merenda c'è la polenta c'è wow adoro gentilini limone limone le avevamo visti si che ci ispiravano già con la limone vittorio al profumo di limone come si no vabbè comunque adoro ah mi sono sbagliata c'è anche un altro prodotto non l'avevo visto ma è mamma velate sono dei stick, rosmarino e olive nere ecco eccolo qua wow dai comunque adoro no sto fatto mi piace mi vale la pena veramente sono da pazzesco ah ok brochure questo mi vediamo se le lascio ah questo forse è come cucere la ramen ok da conservare allora ah oggi il tema picnic maggio 2022 picnic picnic prodotto del mese sono questi mazza e questo è il prodotto del mese armando pronti e sani che costa 2,19 euro poi la polenta valsugana 2,59 euro ramen 2,35 euro gentilini sarebbero i biscotti 1,69 euro i bauli 2,19 euro le gomme 2,49 euro i bocconcini crema al latte e cioccolato bianco 1,69 euro gli sneccoli venere e erbe aromatiche 0,90 euro la birra 4,20 euro il pane morato 1,79 euro e omaggio il bicchiere comunque io troppo contenta e veramente molto molto soddisfatta di questa box si è andata bene se io non poterò rifare la challenge se domani starò bene la faccio domani perché sono in preferito del mese adoro si veramente adoro sarà proprio una passeggiata esatto e quindi nulla noi speriamo che questa box vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video ciao